Ciao a tutti! Oggi prepareremo la zuppa di ceci e pomodoro. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Ingredienti sono ceci lessati, passate di pomodoro, acqua, pomodori rossi, carote, cipolla, sedano, olio evo, basilico, dado bimbi, sale, pepe, rosmarino e prezzemolo. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccare le carote e il sedano, il rosmarino, il prezzemolo e il basilico e la cipolla. E azioniamo il bimbi per 5 secondi a velocità 7. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per 5 minuti, 120 gradi, velocità 1. aggiungiamo la salsa di pomodoro il pepe il sale e facciamo cuocere per 5 minuti, 100 gradi, velocità 1. aggiungere i ceci il dado i pomodori e l'acqua ed azioniamo il bimbi per 25 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. la zuppa è pronta, serviamola. e Grazie a tutti. Grazie a tutti.